Fabio Brunelli, confermato a Ciliverghe, parte un progetto uomo di società, lascerà la categoria degli allievi, scenderà nei giovanissimi, prenderà i 2006, quindi Provincialium, un progetto che vedrà lavorare lei con questa squadra per due anni. Quali sono le sue aspettative su questa nuova avventura? Allora l'aspettativa, prima concludo con l'annata finita con il 2003 che secondo me è stata una crescita strepitosa, partiti piano piano e c'è vista la crescita sul finale e sono contentissimo. Sono contento anche della conferma, adesso passo con il 2006, per me è una bella soddisfazione riniziare con altri ragazzi, ho l'opportunità di due anni di far crescere quei ragazzi, sono molto fiducioso e ho voglia di iniziare. Nello staff viene confermato anche il suo vice Lutterotti, il dirigente Belleno, che ha lavorato molto bene quest'anno, avrete anche l'opportunità di lavorare seguiti dal nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, Francesco Pellegrini, il prof che vi supporterà esternamente. Il mio staff ormai è consolidato, è tanti anni che lavoriamo insieme, ormai ci conosciamo benissimo, è un ottimo staff. In più quest'anno c'è il professore Pellegrini che anche per me fa parte di una crescita, non ho mai avuto questa possibilità, cercherò di sfruttarla alla grande e per crescere anche per me giustamente. Spero che cresca la squadra e cresca anche l'allenatore per trovare altre belle soddisfazioni nel finale. Ecco una rosa, quella del 2006, corposa, l'ha già vista più volte nel corso del finale della stagione, verranno fatti anche numerosi innesti, c'è molto materiale su cui andare a lavorare. Sì, ho visto per un paio di allenamenti, ho avuto l'occasione di vederli, c'è un po' da lavorare diciamo, però so che arrivano dei ragazzi nuovi da altre società, cerchiamo di far crescere questa squadra che l'anno scorso era leggermente in difficoltà, però sono fiducioso perché mi piace vedere le squadre crescere, quindi è una sfida e voglio vincere anche questa. Grazie, un po' del lupo. Crepi. Grazie. 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 Grazie.